Il Varo di Molière stasera alla seconda, a Trento al sociale, applausi a scena aperta ieri sera nella prima con grandi consensi, mattatore Alessandro Benvenuti, Massimiliano Chiavarone. Arpagone che fa i disfaccordi, che trama, congiura, dispone, controlla dal sale e lo zucchero che non vengano consumati, gli stessi sentimenti suoi e dei suoi figli. Perché l'unica molla che muove qualsiasi suo pensiero è l'attaccamento al denaro, grazie a quel legame speciale che glielo ricorda ogni minuto, l'Avarizia. L'Avaro di Molière approda al teatro sociale di Trento, nell'adattamento di Ugo Chiti che ne ha curato anche la regia. Il risultato è una divertente a tratti drammatica macchina scenica che racconta della follia di un uomo dominato dalla furia del possesso, mattatore e Alessandro Benvenuti nel ruolo di Arpagone che affronta per la prima volta un classico del teatro. Dopo 25 repliche, può sembrare strano ma è così, ho trovato in questo dolore che io ho nel constatare che mio figlio non seguirà le mie ore, ho trovato il cuore del personaggio. Da quel momento io comincio a lavorare ogni sera, il personaggio migliore si matura proprio perché da 4-5 repliche, può sembrare una ma è così, io ho un quadro più preciso della psicologia. A Trento fino a questa domenica uno spettacolo che brilla per la bravura di tutta la compagnia dell'Arcazzurra, ritmo, comicità ma anche squarci di riflessione per un testo che mostra in controluce anche i paradossi a cui può giungere la vita familiare quando manca il rispetto. Caffè con Alessandro Benvenuti, ben trovato qui in Trentino Alto Adige, raccontaci innanzitutto il tuo rapporto col Trentino. Mio padre e mia madre venivano qua a Fai della Paganella, a fare le loro vacanze estive e quindi quest'idea delle Dolomiti in qualche modo è importante per me perché è entrata anche nei miei spettacoli tipo per esempio Benvenuti in Casagori, Ritorna a Casagori. Oltre 40 anni di carriera ma è vero che sei stato un ragazzino prodigio e hai debutato a teatro a 14 anni? Ragazzo prodigio ti ringrazio, sono stato un ragazzo come tutti, sì a 14 anni ho fatto la mia prima apparizione teatrale nel teatrino della parrocchia del mio paese e poi ho interpretato un nonno. E poi l'ha svolta il cabaret con i Giancattivi nel 1972, all'inizio eri tu, Nativi, Atinacenci, poi si è aggiunto Francesco Nuti, insomma una stagione irripetibile che è durata 12 anni. Eravamo molto curiosi di fare delle cose sorprendenti e diverse da quelle che facevano gli altri gruppi. Avete mescolato i linguaggi, per crearne uno nostro. Tu hai seguito comunque il tuo percorso cinema, tv cinema negli anni 80, sei apparso in tantissime produzioni ma soprattutto a teatro, a teatro hai creato poi una tua nicchia con la trilogia Benvenuti in Casagori. Sì, è stato uno spettacolo nato per caso da un gioco fra due amici autori, Ugo Kiti e io, l'abbiamo scritto in due pomeriggi scherzando e prendendo in giro i miei parenti. E quando invece mi è capitato di leggerlo in pubblico è successo il miracolo. Per cui ecco, sono quelle cose che accadono perché devono accadere. Però dobbiamo rivelarlo che tu in realtà sei un musicista, un cantautore. Una rock star, devi essere più preciso, se no autori sono tanti, rock star siamo pochissimi. Mi sono preso un anno sabbatico che poi sono diventati due dove ho fatto soltanto il musicista, il cantante e poi dopo due anni ho ricominciato a fare anche il teatrante ma ho continuato a cantare per altri cinque anni. Tu stesso hai parlato in un'intervista di un momento, di una fase della tua carriera in cui c'era stata la perdita di successo. Come sei riuscito a risalire la china? È un lavoro di autoanalisi tostissimo, durissimo e dolorosissimo che se sei capace di farlo t'accetti, ti perdoni e rimbalzi, se no se pensi che la colpa sia degli altri non ne esci. La colpa è tua. Chi è Alessandro Benvenuti oggi? Un disadattato di successo. E ora prima di berci il nostro caffè un saluto agli spettatori del Trentino Alto Adige. Io so che da queste parti c'è una grande attenzione verso la cultura e verso il teatro e questo fa di voi un popolo serio, interessante, con il quale è bello confrontarsi. Quindi continuate così.